E' gelida mattina, c'è da là più riscaldà, che il cuore che trova, al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo di trinità. A questi signori da, le dirò con due parole, chi sono, chi sono, e che faccio come vivo. Chi sono, chi sono, chi sono, sono un poeta, che cosa faccio? Vivo, è come vivo, vivo. Vivo, è come 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 vivo.